Nei paesi più poveri, ma anche nelle periferie dei paesi più ricchi, si trovano tante persone stanche e sfinite sotto il peso insopportabile dell'abbandono e dell'indifferenza. Così Papa Francesco prima di guidare la recita dell'Angelus. Commentando il Vangelo della Domenica, il Pontificio sottolinea che anche oggi Gesù porta sollievo e ristoro a quanti sono oppressi da condizioni di vita precarie, da situazioni esistenziali difficili e a volte prive di vali punti di riferimento. Nei pensieri di Papa Bergoglio trovano così posto quanti emigrano dalla loro patria mettendo a repentaglio la propria vita e quanti ogni giorno portano il peso di un sistema economico che sfrutta l'uomo e impone un gioco insopportabile che i pochi privilegiati non vogliono portare. Di qui l'invito a seguire Gesù che ci conforta e ci chiede di metterci a servizio dei fratelli. L'amitezza e l'umiltà del cuore ci aiutano non solo a farci carico del peso delle altri, ma anche a non pensare su di loro con le nostre vedute personali, i nostri giudizi, le nostre critiche o la nostra indifferenza.